Onorevole Larrocca, la questione sanità sicuramente non si risolverà quando il manager Zappia arriverà a scadenza? No, assolutamente no, anche perché i problemi sono problemi che ci trasciniamo ormai da parecchio tempo. Inoltre siamo in un momento di emergenza perché questo sta accadendo un po' in tutta l'isola, ma a maggior ragione nella nostra ASPE. E penso che poco serve essere di maggioranza o essere di opposizione. Se c'è un problema, ed è un problema aperto, ed è un problema che riguarda la salute, la salute dei cittadini, ma può riguardare la mia di salute, io credo che noi dobbiamo trovare strategie e soluzioni possibili. Sento da parecchio tempo parlare di medici stranieri, io nella nostra ASPE non ne ho visto arrivare ancora neanche uno. Soluzioni con incentivi, allora le questioni aperte sono tantissime. Io inviterei invece l'assessore regionale per la salute, che è del mio partito, a fare un giro per il pronto soccorso di questa regione e vedere con i suoi occhi, piuttosto che fidarsi di quanto poi gli dice o il politico o il manager di turno. Se ci sono manager che non si lasciano tirare per la giacchietta e non rispondono a quella politica che in qualche maniera magari pensa meno alla salute dei cittadini e più ad altri modi, ad altri stili, qualcosa può cambiare. Alla luce dei fatti attuali, sei un po' pentito di quella dichiarazione di mesi fa dove diceva che l'ospedale di Sciacca è un gioiellino? Assolutamente no. Io stamattina sono stato a Licata, giorni fa sono stato a Canicattì. Nessun ospedale brilla. Fra questi ospedali se ce n'è uno, non che è Celle, ma che sta un po' meglio degli altri è sicuramente l'ospedale di Sciacca e torno a ribadirlo. Ogni tanto si vocifera anche della possibile sostituzione dell'assessore Volo. Lei cosa ne pensa? L'assessore Volo non è un argomento che mi compete e che compete il governo Schifani, il presidente Schifani. Non credo che sia all'ordine del giorno oggi né la sostituzione dell'assessore Volo né un rimpasto all'interno del governo. Penso che le priorità del governo e della maggioranza siano altri. Non bisogna dimenticare che noi siamo governati da sei anni da un governo di destra-centro e continua sempre la inefficienza della sanità e quindi del diritto alla salute. È vero, abbiamo attraversato quel periodo del Covid, però ormai tutto è finito. Prima c'era il periodo prima del Covid, poi c'era il periodo durante il Covid. Oggi siamo sul post-Covid, però siamo su una condizione di davvero, non di zona disagiata, ma di sanità davvero disagiata con situazioni drammatiche. Cosa rimprovera al manager Zappia? Ma guardi, al manager Zappia sarà il suo governo regionale quello che lo ha messo lì a doverlo rimproverare. Io posso soltanto dire che ci sono gravi carenze in provincia di Agrigenzo come nel resto della Sicilia sul tema della sanità e questo ovviamente è una inefficienza sul governo regionale. Sul manager Zappia ci pensa lo stesso suo governo, considerando il fatto che il governo sarà poi la stessa mano che nominerà i manager nel prossimo futuro. Il dottore Zappia è quasi bacchetta ai sindesi perché non dovrebbero fare il sit-in. Non è pensabile che questo signore vada a porre sullo stesso piano un ospedale di Sciacca, Dea di primo livello, con l'ospedale di Licata o con altri ospedali di base. Dea di primo livello significa che tu devi garantire una risposta rispetto alle situazioni di emergenza a un livello superiore rispetto agli ospedali di base. Quindi se tu devi chiudere, se devi ridurre i servizi, lo devi fare con gli ospedali di base, non con il Dea di primo livello. Quindi come ce ne usciamo? Ma cercando di far capire con tutti i mezzi, noi pensiamo di coinvolgere questa volta in maniera forte il prefetto, ma non è da escludere che si possa anche pensare a delle denunce penali. Sfido chiunque a mettere a paragone le due realtà, ante riforma e post riforma, quindi prima quando era azienda ospedaliera e adesso che è Dea di primo livello, per capire quale delle due esperienze era la migliore. Purtroppo è dal 2009 che il nostro ospedale, quindi al di là dei vari governi regionali che si sono succeduti e anche delle varie direzioni dell'Asp, purtroppo l'ospedale di Sciacca è andato sempre indietro. Quindi la nostra proposta tiene anche conto delle esigenze e della realtà del territorio. In primis noi abbiamo anche come peculiarità la banca del sangue cordonale che può e deve fare anche la differenza. Quindi la nostra proposta continua a essere quella. L'ospedale di Sciacca Ribera deve essere un'azienda ospedaliera.